buona sera ragazzi benvenuti in questo vlog si figa il primo che facciamo figa il primo si diretta da milano ragazzi stiamo arrivando alla fiera del dove andremo a fare cose si si fiera sulla tecnologia realtà virtuale divulgazione scientifica che altro simon un botto di roba probabilmente presenteremo anche un progetto chi lo sa scriviamo con un sacco di soldi hai anche allora ragazzi ci hanno registrato come potete vedere e ci hanno detto che ci sono le docce quindi forse quindi ci possiamo lavare un buon inizio dai dai è un ottimo inizio se vogliamo scovare il bar penso sia il bar per fare uno spritz perché simone ama molto gli spritz e poi forse andremo a dire è così il tempo libero il tempo libero ragazzi benvenuti al campus rom dove ci diverteremo particolarmente si spera da questa parte ok questa è la mia tenda questo guardate un po ecco adesso sorpresa da trovare simone scusa ragazzo mi dico buon uomo ma cioè come funziona spiegami si dormirà parecchio comodi boia ma quante cose hai sono parecchie organizzazioni no dai io non ho nulla infatti devo andare a comprare qualcosa tutto ma tipo non so qualcosa da mettere sotto magari no dai no iscriviti al canale 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 canale